ciao a tutti a tutti i fan di maxi gamer official io sono per chi non mi conoscesse ninja impostor max cattivo ok oggi vi volevo parlare di una cosa molto semplice e molto molto delicata tutti noi conosciamo la forma completa ma la forma completa si sa solo i scienziati che hanno scoperto questa magia della forma completa che esistono ben tre tipologie della forma completa tre oggetti che noi umani se la sviluppiamo possiamo avere dipende la nostra personalità io io che parlo di queste cose così da scienziato ok comunque andiamo avanti e ognuno di noi se abbigura che ci riesce a sbloccarla abbiamo una forma completa certi all'anno ad armature certi l'anno ad anello come vi ho fatto vedere nel video di ieri ma certi lo hanno anche a bracciale esistono tre oggetti che in pratica fa la forma completa tutti e tre insieme in pratica se una persona se a tutti e tre è fortissima è infingibile abbiamo la sono tre abbiamo la armatura quella che vi ho fatto vedere max ma anche altre tipologie di armatura chi ce l'ha di ferro di lana di di legno qualsiasi tipo dipende la personalità poi c'è l'anello che serve a far scomperire una delle cose tutto e poi ci abbiamo il bracciale il bracciale serve per dare il potere che non c'è inviare che potere più forte della forma completa e l'armatura invece serve per proteggerti dai pugni delle pugna l'armatura serve a proteggere dal i pugni degli avversari l'anello per far scomperire delle cose tipo il nemico ti sta dando un corpo di sbarra di ferro tu sei in pericolo usi l'anello e lo fai scomperire nulla lo fai lo fai comparire nel posto dove lui odia il nemico e invece il bracciale serve a essere potentissimo ad avere un corpo super forte tutti come voi sapete io c'ho l'anello quindi se maxi gamer official provasse a distruggermi o fare qualcosa io col mio potere dell'anello potrei farlo scomperire nel nulla ma voi non sapete che io lo anello l'anello l'ho avuto nella mia forma completa ma non mi sono arreso perché i cattivi non fanno cose buone fanno anche cose cattive ah sì vi sono scordato di vi bracciale non è che per forza si deve fare come quello la che ha mio fratello ninja in posto forte scattivo può farlo in qualsiasi modo ecco qua il mio bracciale ce l'ho rubato ad una persona e adesso mi manca solo la rammatura per essere il più forte cattivo del mondo ma voi direte ma ninja impostor max cattivo ma voi e tu l'impostore non stavate progettando un piano per distruggere la per impossessarvi della aston villa di max sì ma lo faremo con i tre oggetti magici perché ragazzi i tre oggetti io ne ho due ovvero il bracciale e l'anello mi manca l'armatura per essere il migliore quindi avendo tutti e tre oggetti magici possiamo vincere due cellio uno l'ho avuto nella mia forma completa che mi ha aiutato l'impostore il mio amico siamo molti amici io l'impostore mi ha fatto provare ci mi sono esercitato per una settimana e ho avuto l'anello per la mia personalità da cattivo non potevo avere l'armatura perché io già sono forte quindi che me ne faccio di un'armatura l'anello questo anello lo sto prendendo subito e questo anello ti dà il potere e adesso io ho il bracciale e l'anello se ho l'armatura sarò il più potente di tutti anche di chi ha la forma completa 140 130 perché non conta pensateci avrò tutti e tre gli oggetti sarò imbattibili avrò avrò una super forma completa che nessuno al mondo avrà bisogno a rubare l'armatura quindi proviamo subito a metterla guardate ho messo ho messo il bracciale e benissimo e adesso inseriamo l'anello con l'armatura sarò il più potente del mondo questa molletta colla quindi mettiamo tutte e due le cose insieme questo che lo fa scomparire la molletta sana lo fa scomparire e questo che ti mi rende poter che mi rende potente questo qua il bracciale serve a essere potentissimo serve per chiamare qualche cattivo oppure qualche buono chi lo sa e poi serve anche per essere potente e quindi io lo proverò su questa molletta wow che forza l'anello e il bracciale una forza mai vista prima un potere enorme un potere mai visto prima nel mondo e questo potere sarà mio ciao e il potere questo potere che vi dico sarà mio aggiustiamo le cose mettiamo questo qua e l'anello qua ci vediamo quando ruberò l'armatura ciao 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 ciao